Buonasera, benvenuti all'ultimo film della cortezione lungometraggi internazionali del 37esimo Torino Film Festival, è un film che batte bandiera Islanda da Limarca a Svezia, è ambientato in Islanda, in un posto pazzesco e racconta, anche questo film è uno di quelli su cui si può dire pochissimo perché è un po' una serie di venature che vanno verso il thriller e il noir, anche se ovviamente è un noir bianco, bianco come colore intendo perché è ambientato in quell'area, c'è un'area di luce, e raccolta, parte raccontando l'apparenza e la storia di un uomo e di una casa, è un uomo che lavora ossessivamente a una casa, sperduta in mezzo a un paesaggio, un paesaggio tipico dei paesi nordici, un uomo che ha subito un trauma e che è sempre più ossessionato, cioè la casa rappresenta in pratica il trauma che lui ha subito e è sempre più ossessionato e continua a scavare nel suo passato e rischia e rischia anche di mettere in gioco tutti i rapporti di affetto, di amicizia, di solidarietà che ha. È un film appunto con delle sfumature thriller in cui si scoprono delle cose molto forte e molto poetico. Il regista è islandese, si chiama Linur Palmason ed è stato, questo è il suo secondo lungometraggio, il suo primo film si chiama Winter Broder. Purtroppo il regista non è potuto venire da noi, però è venuto un suo collaboratore, un suo amico, ma ha detto prima che hanno studiato cinema insieme in Danimarca, danese, cioè il montatore di, io vi dico il titolo in inglese, il titolo internazionale, quello in islandese, ve lo faccio dire a lui perché è impronunciabile, e vi presento il montatore di A White White Day, Giulio Scrappes Damsupo. Adesso vi dice il titolo in lingua islandese. E prima ha detto che non è sicuro che la pronuncia sia giusta perché lui è danese, invece il titolo in inglese. è molto bello di vedere tutti, noi, come la squadra, e il resto della squadra, e io sono molto felice di essere qui, non ho detto tanto, grazie, solo voglio che vi divertire il film e possiamo parlare dopo. Buonasera, è bellissimo vedervi tutti qui, l'intera troupe dei realizzatori del film e io siamo molto contenti di presentarvi il nostro film, non vi dirò altro e vi lascio godervi il film, sarò qui alla fine della proiezione per parlare con voi. Bene, ringraziamo Giulio e buon divertimento a tutti, grazie.